Settimana indimenticabile per Sofia Del Stabile, Franca e Rima fra l'altro, che sabato scorso con il Pordenone aveva toccato finalmente Romano la Serie A. Con Del Stabile che finalizza al meglio il contropiede, gara subito richiusa dalle veronesiche. Sì, sì, è cominciata bene, abbiamo giocato queste due partite, vincendole entrambe, diciamo potevamo aspettarci un risultato del genere, però non era assolutamente da sottovalutare la partita. Il primo gol al diciottesimo per la neoentrata Sofia Del Stabile, che riceve palla dentro l'aria da Giuliani e fa partire un tiro incredibile per Cesar, che colpisce la traversa prima di superare la linea di Porta. E' su Fieda e Stabile ad accorciare le distanze con un colpo di testa al bacio su cross da calcio d'anno. Minuto dopo al trentottesimo c'è spazio anche per la segnatura di Del Stabile, anche lei ha nove gol in questa stagione.